Femminicidio Femminicidio Una parola nuova Che nuova poi non è Una parola Brutta Non mi piace, non mi piace Cheminicidio Femminicidio 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 Una donna che si vede socialmente rappresentata così E' incentivata alla denuncia E perché mai dovrebbe fidarsi di noi Se sa che noi Non stiamo dalla sua parte Se Come nella maggior parte dei casi La vittima viene rappresentata Attraverso una soggettiva cioè come se l'aggressore fosse di fronte a lei ma dietro l'obiettivo fotografico. Noi lettori, volenti o nolenti, comprese noi donne che ci dichiariamo impegnate e sensibili, che altro stiamo facendo se non guardare la vittima dalla stessa visuale del suo aggressore? Grazie per la visione! Grazie a tutti!